Io volessi trovare pace, ma una pace senza morti. Una mia 70 volte sarebbe questa per campare, sarebbe questa una mattina, una mattina di primavera e arrivasse fine la sera senza di sentire la gente che dice faccia, senza sentire l'amico che deve consigliare, senza sentire la famiglia che dice ma che hai fatto, senza sentire più a patta che la coscienza e la dignità, senza leggere il giornale, la notizia impressionante che non vai per tutto quanto e non tiene che ci fa, senza sentire la dottore che dice che la malattia, la ricetta in farmacia, l'onorario che ha papà, senza sentire questo cuore che ha di parlare i concettini, Rita, Brigida, Nannina, che sta sì, che l'ha da no, perché insomma si può pace e non sentire più niente. Io ho sperato che solamente veniva morto a te, Brigida. Io volessi trovare pace, ma una pace senza morti. Una mia 70 volte sarebbe questa per campare, sarebbe questa una mattina, una mattina di primavera e arrivasse fine la sera senza di non sarà da là.